Musica Hotel Montespina Dagnano, convegno a Naste, l'Associazione Nazionale delle Strutture per la Terza Età. Si parla di un dato, l'invecchiamento della popolazione italiana che è correlato a un calo delle nascite. Questo inevitabilmente è un dato che si ripercuote sul settore sanitario e sociale. Se da un lato infatti invecchiare e avere una vita più lunga significa un miglioramento della sanità pubblica e delle condizioni di salute in generale, dall'altro c'è anche l'aumento di malattie croniche che richiede la presenza di strutture sul territorio adeguate a sostenere questa domanda. In Campania purtroppo siamo a fanalino di coda anche su questo. Consideri che ci sono 2.552 posti letto a fronte di un fabbisogno campano di circa 12.000 posti letto. L'aspetto economico è molto importante in quanto molto spesso gli anziani che trovano possibilità di assistenza in questi luoghi che sono particolarmente strutture private non hanno la possibilità economica di sopperire ad avere e pagare delle vere e proprie rette per soggiornare nelle strutture per anziani. Per cui oggi facciamo questo convegno al fine di lanciare in modo inequivocabile alla politica l'aiuto ad non solo gli imprenditori che fanno questo tipo di lavoro ma agli anziani che non hanno più la parte economica per essere assistiti. In Italia la popolazione cresce, si riducono le nascite. Al sud come stiamo messi? Credo che rispecchi chiaramente tutta la sintomatologia del nazionale. Io in un recente progetto ho proposto la costruzione di 250.000 posti letto. Devo dire che al nord, bene o male, in qualche modo rispettano le percentuali del 6% degli urti a 65 anni. Qui dal centro sud stiamo sulla media di 1,7 di 1 e credo che ci sia la massima necessità di costruire dei posti, di costruire, di adeguare dei posti letto per la terza età e questo è fondamentale. Noi abbiamo ipotizzato facendo uno screening generale che qui in Campania servono circa 10.000 posti letto. Credo che sia il momento che ormai non è più procrastinabile questa realizzazione e addirittura abbiamo proposto la costituzione del fondo unico per la nuova sufficienza proprio per far fronte alle carenze economiche che ormai sono veramente croniche.